In quel tempo, Filippo trovò Natanael e gli disse, «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth. Natanael gli disse, «Da Nazareth può venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose, «Vieni e vedi». Gesù, intanto, visto Natanael che gli veniva incontro, disse di lui, «Ecco davvero un'israelita in cui non c'è falsità!» Natanael gli domandò, «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù, «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di Fichi!» Gli replicò Natanael, «Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele!» Gli rispose Gesù, «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di Fichi, tu credi?» «Vedrai cose più grandi di queste!» Poi gli disse, «In verità, in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo!» Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!